Dopo il quadro politico emerso dalle elezioni regionali dello scorso 28 ottobre, il Partito dei Siciliani riorganizza l'idea e getta le linee guida e programmatica del partito in un documento politico approvato il 25 novembre dal Comitato regionale Aenna alla presenza dei deputati eletti a Stradercole. Il coordinatore regionale ha auspicato un'intensa partecipazione democratica alle elezioni non solo dei segretari comunali e provinciali, ma di tutti gli organismi, da parte dei militanti che potranno soffrire del voto online. In questo percorso di partecipazione attiva e di difesa dello Statuto e dell'autonomia siciliana è importante, secondo Piscitello, l'ausilio sia di Grande Sud che del Nuovo Polo, al fine di costruire un movimento unico che abbia un ruolo attivo all'interno della futura legislatura. È stato un eccellente comitato regionale dove il Partito dei Siciliani ha discusso della propria storia, delle ultime elezioni regionali e anche del futuro che vogliamo costruire per la Sicilia e per i siciliani. Una stagione si è chiusa, se ne apre un'altra molto importante in cui vogliamo rafforzare davvero il Partito dei Siciliani e metterlo a disposizione di tutta la Sicilia, perché un partito come il nostro che difende i diritti dei siciliani e della Sicilia serve davvero a tutti, lo dico in modo paradossale, ai cittadini siciliani ma anche ai nostri avversari. Serve a tutti un partito che difenda l'autonomia siciliana e le prerogative della Sicilia.